quando mi dicono che è impossibile con il cane tante volte nella mia vita nella mia esperienza dal 2002 ad oggi come istruttore e donatore cinofola comportamentale mi sono sentito dire a livello personale sui miei cani che era impossibile fare questo o anche tante persone con i loro cani che mi hanno detto che era impossibile beh tutto è impossibile ma quando si pensa che è impossibile c'è qualcuno e lo sta già facendo quando mi dicono è impossibile vado sempre a verificare e nella maggior parte dei casi ho visto che era possibile nell'unica situazione in cui non era possibile e quando la persona o il proprietario del cane impedisce di essere aiutata e di aiutare il cane quindi le cose quando dicono che è impossibile vanno verificate con il cane ci sono tante belle sorprese per cui anche quando vi trovate in difficoltà con il vostro cane arrendersi mai chiedere aiuto al giusto esperto nulla è impossibile c'è sempre qualcuno che dimostra che lo si può fare nell'ambito dell'educazione cinofila comportamentale della relazione dello star bene col proprio cane ciao da stefano stefano pesci istruttore e donatore cinofilo comportamentale specializzazione norvegese nella risoluzione problemi nel benessere del cane nel comportamento del cane nell'alimentazione naturale del cane lei share un cane insegnante cane di famiglia sono l'idiatore del metodo to get a dog se ti fa piacere mi può contattare dal mio sito www istruttore cinofilo punti t